carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale quest'oggi ho studiato ancora una volta per voi un ambo secco ormai la previsione uno solo è famosa diciamo la conoscete tutti e tento la vincita sempre con un solo estratto e un solo ambo l'ho denominato questo uno solo forza 4 perché il numeretto 4 è molto forte da vincere sulle ruote di bari cagliari e firenze ritengo che potrebbe sortire diciamo non solo su una ruota ma anche su più di una quindi o su bari cagliari avere diciamo cagliari firenze avere una doppia sortita quindi mi raccomando giocare questo 4 su queste tre ruote lo giochiamo anche in quarta e quinta posizione ma io vi do un solo ambo da puntare su queste tre ruote a partire dall'estrazione di giovedì 25 giugno quindi domani per massimo 13 colpi con la mia solita modalità vincita venuta è un ambo secco che ho studiato nei minimi dettagli lo ritengo fortissimo è un bellissimo ambo secco che spero ci possa dare una bellissima vincita col numeretto 4 quindi che sarà il capo gioco e c'è un solo abbinamento per formare l'ambbo secco quindi l'ambata 4 regalo per tutti bari cagliari e firenze tre ruote consecutive quindi giocata molto particolare e vi attendo ovviamente in privato indirizzi mail che metto in descrizione per accettare la modalità vincita avvenuta voi mi chiedete la previsione vi do l'ambosecco vi impegnate a giocare la previsione per l'intero ciclo di gioco a vincita avvenuta soltanto se si vincerà l'ambo ci sarà il pagamento per la vincita quindi ormai conoscete benissimo come funziona la modalità vincita avvenuta e speriamo di poter ottenere un bellissimo ambosecco con questo capogioco 4 che sta arrivando molto forte proprio su queste tre ruote quindi attenzione a non perderlo e speriamo di ottenere una bella vincita vi attento in privato via mail per prendere questo favoloso ambosecco con il numeretto 4 per adesso saluto a tutti mister sbancolotto